Andrea Sotto, sindaco di Nuoro, sette anni come primo cittadino della città, possiamo dire che questa è la crisi del settimo anno? Possiamo anche dirlo, naturalmente speriamo che come nei migliori matrimoni la crisi del settimo anno porti a un rinvigorire dei rapporti e a un rilancio di un progetto comune per una cosa molto importante che si chiama la nostra città, il nostro villaggio, il nostro territorio. C'è il rinnovamento della giunta in atto, a giorni ci saranno i nomi dei nuovi assessori, che tipo di rimpasto è? Ai due anni di una giunta, specialmente a secondo mandato, occorre sicuramente un tagliando per vedere cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto e cosa c'è da fare. Per cui io desidero una giunta che sia la più fattiva, collaborativa possibile, la più comunicativa nei confronti del Consiglio Comunale e della città tutta e che porti avanti il programma con molta determinazione ma anche molta capacità di ascolto. C'è questa novità dell'intergruppo? Sì, l'intergruppo è una novità che non è che sia un male perché esiste, è un male come è stato creato secondo me, però a ogni cosa c'è rimedio. Per adesso noi parliamo con le componenti della maggioranza che sono uscite dalle elezioni del 2020. In definitiva, quando potremo avere i nominativi della nuova giunta? Credo entro lunedì, entro lunedì dovremo tracciare una linea che ci dia la prospettiva di una giunta che sia in grado di affrontare le sfide dell'immediato e del futuro.